Su questo tema noi la tassa sulla casa nei vent'anni precedente l'abbiamo anche noi tolta, quindi è un tema nel quale io richiamavo la coerenza politica rispetto a questo tema. Poi c'è da discutere di tutto ciò che accompagna questa legge di stabilità, soprattutto rispetto al deficit che l'accompagna, perché una spesa in deficit è molto preoccupante. Però di questo domani mattina in un'apposita conferenza stampa indicheremo quelle che sono le critiche in modo specifico e anche le nostre proposte.